Questo dovrebbe distrarlo? Sì! Ragazze! Ho cominciato prima io! Attenti! Questo per dirgli che io sono la migliore bestia in giro! Abbiamo camminato per ore, faceva caldo, era pieno di insetti, tutto quello che volevo era finalmente catturare un bel cinghiano! Margarita Time, nessuno ne vuole? Si aspettiamo! Carino! Mi sembra di fare... com'è che si chiama? Abbiamo scoperto mentre eravamo a caccia che Megan è una vegetariana ed ebrea! Vero, non voglio uccidere nessun cinghiale! Scherzi, io non lo uccido! Ed è un attivista di pesa! Pensavo che fosse una specie di cattura e rilascio, sapete? Non ha niente a che vedere con quella roba! Non c'è niente di piuttosto di una ragazza con sentimenti! Dai! Dai! Così! Così ci sta tutto il giorno! Ha perso! Ho appena ucciso qualcosa! Non resto qui tutto il giorno ad aspettare! Niente da fare, amica! Se il cinghiale mi fosse venuto contro sarei saltata sul primo albero e mi sarei messa a urlare come una bambina! Quindi è meglio che non l'abbiamo trovato! Ma io adesso è toloso, è toloso, è toloso, è toloso!